no ragazzi bentornati a un nuovo appuntamento di glorie del passato qui su pit stop italia questo è il secondo appuntamento di glorie del passato vi lascio qua sopra il link del primo video dove vado a spiegare che cosa ci occupiamo appunto in questo format e non voglio annoiarvi oltre quindi andate a vedere quello ve lo lascerò anche a fine video così capite di che rubrica si tratta oggi come da titolo parleremo della fiat x1 9 un'auto a mio avviso molto interessante perché parleremo di questa pensate che è stata prodotta dal 72 fino all'89 ovvero ha avuto ben 18 anni di carriera immaginate oggi una macchina la cui produzione è iniziata nel 2004 e si attiva ancora fino ad oggi 2021 certo erano altri tempi però è degno di nota sicuramente scopriremo poi durante il video i vari motivi per cui sono affezionato a questa macchina fino ad arrivare alle varie versioni più sportive che troveremo a fine video quindi seguitelo tutto molto bene parleremo a livello cronologico quindi cominciamo a capire da dove nasce la x1 9 tutto nasce da un prototipo dell'auto bianchi la bertone a 112 abarth questo prototipo uscì nel 1969 a torino e suscitò un grande interesse tanto che bertone decise di cambiare la sua carrozzeria barchetta per far diventare targa perché secondo le credenze dell'epoca era più sicura rispetto a una barchetta andremo poi in un futuro video a spiegare bene la differenza delle carrozzerie station wagon berlina monovolume spider eccetera ma questo sarà un altro video come dicevamo questa macchina poteva essere un grande potenziale per la fiat che però decise in quegli anni di puntare molto di più sulla a 112 abarth affinché dasse a competere con la innocente mini cooper di quegli anni che aveva riscosso un grande piacere popolare quindi a livello commerciale era molto più potente quella immaginate un po' tutte le panda che hanno venduto rispetto alle 124 nuove parlo dei nostri tempi ovviamente non c'è paragone quindi a livello commerciale era una mossa sicuramente importante per la fiat e che quindi non poteva lasciarsi sfuggire siamo però fortunati perché Gianni Agnelli nel corso dei suoi viaggi notò questa piccolina a grugliasco e decise che poteva essere un'ottima sostituta per l'ormai datata 850 spider quindi il prototipo fu rimesso a posto e cominciò la produzione di quest'auto con la sigla interna di X19 sigla interna che come immaginate diventerà poi il nome del modello il 22 dicembre del 1972 presentò insieme alla 124 rally abarth al parco delle madonie la nostra X19 sul tracciato della targa Florio andiamo finalmente a parlare della X19 e della sua meccanica in gran parte condivisa con quella della 128 coupé la cosa bella però della X19 è che il motore era centrale la trazione posteriore e soprattutto essendo carrozzeria targa aveva un bellissimo roll bar centrale con la parte di tetto asportabile che si poteva poi riporre tranquillamente nel vano anteriore della macchina non solo queste parti erano in comune con 128 abbiamo anche tutto il gruppo delle sospensioni più i 4 freni a disco davanti e dietro che comunque per quei tempi era veramente veramente tanto mentre il telaio udite udite derivava direttamente dalla lancia Stratos pensate che chi aveva provato la X19 e chi aveva provato la Stratos non parlo di persone comuni ma di collaudatori veri e propri, piloti descrivevano un comportamento della X19 addirittura superiore a quello della Stratos nonostante la forma fosse praticamente la stessa, la meccanica, le componenti fossero simili il comportamento della X19 era per chi la guidava ancora migliore della Stratos il motore equipaggiato era un semplice 1300 da 75 cavalli con un cambio a 4 rapporti su un peso di 880 kg e un metro e 17 d'altezza un metro e 17 di altezza 880 kg non è poco, non è per niente poco è vero sono pochi cavalli motore centrale, ricordiamolo trazione posteriore 880 kg facciamo 900 però arriverà poi la versione 1500 di motore soprattutto per le versioni americane perché ricordiamo che la X19 fu importata anche in America con un piccolo restyling, l'unico che ha subito nella sua carriera tra l'altro nel 1978 con delle rinforzature a livello di paraurti classiche americane di quegli anni quindi di quelle barre cromate che conosciamo tutti ecco la versione di questo restyling si chiamava appunto 5 speed come dice il nome la modifica più importante fu l'introduzione del cambio a 5 marce rispetto al 4 il motore diventò un 1500 da 85 cavalli quindi ci fu una delle piccole migliorie generali, un ammodernamento classico vi furono parecchie versioni speciali durante gli anni che aiutarono la Fiat a vendere 170.000 esemplari di questo veicolo tra tutti questi ce ne sono un paio che reputo molto importanti e veramente veramente interessanti di cosa parlo? la prima è la Dallara X19 scritto proprio X19 per distinguerla dalla normale Fiat X19 lo vedete in foto la X19 era molto più sportiva molto più cattiva presentava sempre un motore 1300 ma elaborato con 16 valvore e una potenza di 192 cavalli dopodiché verrà anche una versione aggiornata con un 1600 che superava i 200 cavalli ecco questo è il motivo principale per cui ho voluto dedicare questo appuntamento di gloria del passato alla X19 la Dallara la Dallara X19 è veramente una macchina a mio avviso molto più sportiva di auto moderne e vi dico anche il perché vi leggo qualche dato Dallara cominciò a progettare la macchina dal 73 e fu esposta poi due anni dopo al Salone di Parigi era destinata alle gare di campionato del gruppo 5 Silhouette e monta il motore che vi ho detto quindi il 1300 con 192 cavalli a 9700 giri il cambio era 5 marce ha innesti frontali con differenziale autobloccante pensate che la vettura raggiungeva la bellezza di 230 km orari il suo peso è oltre 200 kg inferiore rispetto a quello di serie la meccanica è caratterizzata da impiego di leghe leggere le sospensioni sono ridisegnate i freni disco sono autoventilanti e gli pneumatici sono montati su cerchi in lega da 8 pollici davanti e 11 pollici dietro passaruota allargati carrozzeria in fibra di vetro e spoiler anteriore a tutta larghezza questa era un'auto fortissima soprattutto su slalom e gare in salita appeal, downhill data la sua leggerezza e comunque i suoi tanti cavalli perché parliamo di circa 200 cavalli su un peso piuma le garantiva veramente doti di manovrabilità eccelse e comunque raggiungere delle velocità importanti in poco tempo data la leggerezza ancora oggi ci sono dei privati che costruiscono in vetro resina delle repliche della dall'ara e continuano a gareggiare con successo questo perché molte ormai hanno un valore storico e collezionistico e anche secondo me è meglio lasciarle dove sono andiamo adesso quasi a terminare questa chiacchierata della X1.9 con un'altra versione speciale che è la versione X1.9 Abarth partiamo dal motore vi ricordate che siamo partiti con la versione stradale normale 1.3 poi 1.5 lo stesso 1.3 giusto un pelino più pepato sulla versione dall'ara fino ad arrivare a un 1.6 ecco il prototipo Abarth decise di montare il motore della 124 Rally Abarth che era un 1.8 su un'auto che pesava 750 kg con 200 cavalli se dico poco scusate vi leggo anche qui due dati interessanti che penso apprezzerete questo 1.8 era alimentato da due carburatori doppio corpo con distribuzione a 4 valvole per cilindro come detto 200 cavalli a 7600 giri la trasmissione era 5 marci a innesti frontali sempre è immancabile il differenziale autobloccante l'estetica la vedete c'era anche questa pinna importante posteriore centrale come detto pesava solamente 750 kg ciò la rendeva più leggera della futura 131 Abarth che avrebbe preso il posto delle precedenti nei rally pesando 950 kg quindi ben 200 kg in più pensate che vi fu anche il progetto di una X19 Turbo purtroppo però rimase solo il progetto non ci fu nulla di concreto sarebbe stato interessante vedere cosa avrebbero potuto tirare fuori da questo progettino non lo sapremo mai sicuramente ci sarebbe stato qualcosa di interessante molto prestazionale ma come detto non andò oltre il progetto ecco questo è tutto quello che riguarda questo fantastico veicolo Fiat X19 ci sono state veramente tantissime versioni abbiamo visto in Italia all'estero addirittura in America un solo restyling 18 anni di vita versioni sportive molto sportive mi piacerebbe veramente tantissimo poterne provare una anzi se tu che stai guardando per caso dovesse avere anche solo una replica di questo veicolo e fossi interessato ti prego fammela provare un'auto così leggera con il giusto rapporto di cavalleria perché sono tanti cavalli non sono tantissimi ma per così poco ve lo garantisco è la cosa migliore la giusta cavalleria su un peso leggero è la cosa più sportiva che si possa chiedere detto questo ragazzi io vi chiedo di iscrivervi al canale lasciare un mi piace lasciare anche un commento voglio sapere cosa ne pensate di questa X19 e soprattutto di questo format gloria del passato è molto importante per me che vi iscriviate e continuate a darmi i vostri feedback e lasciami un mi piace per far crescere il canale e aiutarvi a portarvi contenuti importanti e di qualità ricordatevi anche di attivare la campanella così ogni lunedì alle 21 quando usciranno i miei video sarete avvisati e potrete guardarli in tutta tranquillità ci vediamo il prossimo lunedì carissimi amici prima di salutarvi voglio fare un ringraziamento grandissimo e importante a Vito di Autoofficina GS lo troverete in Corso Francia 76A con legno ed è stato così gentile da offrirci le immagini di questa X19 presto gli faremo un'intervista e andremo a vedere insieme la sua officina piena piena di pezzi interessanti come potete vedere a presto con il prossimo episodio un'intervista che ci vediamo un'intervista Grazie a tutti.